La cerimonia di apertura del Giubileo Celestiniano si è svolta all'Aquila sul Sagrado della Basilica di San Bernardino. A portare la fiaccola del Fuoco del Morrone, nell'ultimo tratto, sono state quattro ragazze che prestano servizio civile nella struttura del Movimento Celestiniano, impegnato in attività assistenziali e di accoglienza rivolte agli immigrati, soprattutto donne con bambini. A loro è stata affidata anche la lettura di un documento, condiviso con le comunità dei territori interessati dal percorso del Fuoco del Morrone, organizzato dal Movimento Celestiniano dell'Aquila e partito dall'eremo di Sant'Onofrio a Sulmona. E proprio a Sulmona e i suoi abitanti, che da giorni stanno combattendo il terribile incendio che ha distrutto i boschi della montagna del Morrone, è andato il pensiero delle autorità civili presenti, dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi al presidente della regione Luciano D'Alfonso fino al neoletto presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso. Biondi, alla sua prima perdonanza da sindaco, ha voluto rendere omaggio anche alle vittime del terremoto di Ischia e dell'attentato terroristico di Barcellona, nonché alla memoria dei caduti del sisma che esattamente un anno fa, nella notte tra il 23 e il 24 agosto, devastò Amatrice ed il centro Italia. Nel suo intervento, Biondi ha sottolineato come l'edizione di quest'anno segna anche l'inizio di un nuovo cammino della perdonanza. Secondo l'impegno dell'attuale amministrazione, intende assumere quello di offrire ai valori celestiniani e al rito del perdono una cornice più aderente alla realtà storica in cui i cittadini assumono il ruolo di protagonisti più che di spettatori. L'edizione di quest'anno, la cui organizzazione si deve, in massima parte, alla precedente amministrazione, sarà caratterizzata dall'introduzione di speciali misuri di sicurezza, dovute sia all'innalzamento del livello di allerta scattato in seguito all'attentato terroristico di Barcellona, sia alle nuove disposizioni in materia di ordine pubblico imposte dal Ministero degli Interni, dopo i fatti di Torino del 30 giugno scorso. L'appuntamento più importante della settimana celestiniana sarà, come al solito, l'apertura della Porta Santa, previsto il 28 agosto, dopo il corteo storico. Per l'occasione sarà temporaneamente riaperta al pubblico la nuova porzione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, i cui lavori di restauro dovrebbero terminare entro la fine dell'anno.